Uno di noi potrebbe essere il discendente di qualche famoso personaggio storico vissuto anni fa e non saperlo, o comunque di qualche famosa persona di oggi, chi lo sa? Ovviamente con la sfiga che ho io potrei essere al massimo il discendente di un netturbino giapponese degli anni 90, ma voi forse cercando a fondo riuscirete a trovare qualcosa di incredibile nell'albero genealogico della vostra famiglia. Oggi andremo proprio a vedere i discendenti, quindi parenti di sangue, di alcune persone famosissime e magari vissute anche anni fa, chissà, forse li riconoscerete. Se siete seduti, sdraiati o comunque una mezza via, cominciamo il video. Diana Widmeyer Picasso Avere un cognome importante è davvero un fardello spesso, ci si ritrova a dover soddisfare aspettative sin troppo grandi. Ma questo non spaventa affatto Diana Widmeyer Picasso, la figlia di Maya Widmeyer Picasso, cioè la figlia del famosissimo Pablo Picasso, considerato tutt'oggi uno dei migliori pittori e scultori del XX secolo, se non il protagonista assoluto di quel periodo. Almeno una volta avrete visto un suo dipinto oppure un meme, chi lo sa. È stato il fondatore di varie culture artistiche e per questo motivo Diana non voleva assolutamente sfigurare e dimostrare di essere all'altezza del nonno. Ha una laurea in giurisprudenza e un master in storia dell'arte. Ora lavora per vari musei importanti come esperta di sculture e dipinti antichi. Non è una pittrice, è vero, ma è riconosciuta a livello mondiale e ha visto ogni genere di arte antica nella sua vita finora, così tanti da riconoscerli anche a chilometri di distanza. Alessandra Mussolini A differenza della donna precedente riconosciuta per la bontà e la genialità del suo predecessore, Alessandra Mussolini è costretta a vivere con un fardello un po' meno carino, essere la nipote di Benito Mussolini. Ha fatto un po' di tutto nella vita, ha recitato, posato come modella, cantato e pure la politica. Pensate che il suo album Amore, uscito solo in Giappone con musiche inedite di Malgioglio, è talmente raro da essere stato venduto a un'asta per 10 milioni di lire, circa 5.000 euro. Nella politica è stata un euro parlamentare e ha partecipato anche attivamente alla politica italiana, come membro di partiti di destra e centrodestra. Insomma, un curriculum invidiabile. Ha fatto di tutto e di più perché voleva sfuggire agli scandali di suo nonno, che vi ricordo era un dittatore fascista della Seconda Guerra Mondiale, quindi spesso era anche aggredita verbalmente dai giornalisti e da persone di tutti i giorni senza motivazioni valide. Ovviamente ha avuto anche lei la sua dose di scandali, ma di questo magari parleremo in un altro video. Tom Hanks Devo proprio presentarvelo? Sono sicuro che lo conoscerete in molti, ma per chi non ne fosse a conoscenza, Tom Hanks è uno dei migliori attori mai visti ad Hollywood. È stato l'unico per di più ad aver ottenuto due Oscar di seguito, nel 1994 per il film Philadelphia e nel 1995 per Forrest Gump. Ha vinto tanti altri premi ed è famosissimo per ruoli in film altrettanto conosciuti, come per esempio Toy Story dove ha dato la voce a Woody. Nel 2009 era stato scelto per fare da voce, narrante, al film documentario su Abramo Lincoln e sui suoi ultimi momenti. Uscito poi nel 2011, Steven Spielberg aveva scelto lui perché l'attore è un pro-nipote della madre di Lincoln, Nancy Hanks, e quindi un cugino di terzo grado del presidente. Un altro attore che forse è discendente del presidente è anche George Clooney perché la madre di Lincoln, Nancy Hanks, era la sorellastra della bis, 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 nonna di Clooney, il che rende l'attore un lontano cugino del presidente. Però diciamo che in questo caso l'importanza è minore, non vale se superi i primi due bis. Riley Keough È un'attrice modella statunitense e abbastanza famosa. Per chi non la conoscesse ha recitato in film come Mad Max o Magic Mike e già a 12 anni, per via delle sue capacità da modella, era stata invitata a una campagna pubblicitaria di Tommy Ilfiger, famosa marca di vestiti. E ha iniziato anche ad andare sulla passerella a 14. Insomma, ha un curriculum abbastanza importante, anche lei, perché ha detto in più interviste che non voleva assolutamente far fare brutte figure a Elvis Presley, infatti è sua nipote. Per quelle poche persone che non sanno chi sia Elvis è stato un famoso cantante e attore statunitense talmente influente da aver meritato il titolo di Red Rock. I suoi movimenti con il bacino sono stati fonti di scandalo e considerati troppo sensuali ai tempi. Molti volevano censurarlo in ogni modo, ma lui non si è mai arreso, diventando oggi una vera icona. Tornando invece a Riley, sappiate che sua madre è l'unica figlia riconosciuta di Elvis. Nonostante il cognome, Riley non ha mai fatto uso improprio della sua discendenza, ma si è sempre impegnata per i suoi obiettivi. Cristobal Colon Non è una malattia del Conan, ma uno dei discendenti del famoso Cristoforo Colombo, uno dei più importanti esploratori italiani che ha scoperto le Americhe e dato nuove zone da vedere al mondo grazie alla sua voglia di scoprire e viaggiare. Il suo discendente ad oggi più vicino è un certo Cristobal Colon y Carvajal, di professione e ufficiale della Marina di Guerra spagnola. I suoi titoli ufficiali sono tanti, duca di Veragua, duca di La Vega, marquese di Aguilafuente, marquese di Giamaica e primo padre dei draghi. Sono i titoli di cui va tanto fiero e che ovviamente non lo fanno sfigurare al suo parente. Ah, l'ultimo titolo l'ho inventato, eh. Non soltanto ha ereditato il nome, ma anche la passione per i viaggi in mare. Per questo motivo è diventato un ufficiale della Marina. Ona Chaplin Charlie Chaplin è stato uno degli attori del cinema muto più famoso e importante del 1900. Se non avete mai visto un suo film vi consiglio di cercare qualcosa su YouTube assolutamente. Già a 19 anni aveva cominciato la sua carriera tra successi e controversie e ovviamente ha una discendente altrettanto capace, che non voleva assolutamente essere da meno, cioè sua nipote Ona Chaplin. Figlia di Geraldine Chaplin, cioè figlia di Charlie Chaplin. Quanti Chaplin che girano. Comunque sia, è un'attrice spagnola, famosa soprattutto per aver recitato la parte di Talisa Stark in Game of Thrones. Ma ovviamente ha fatto tanto altro. Per esempio un ruolo importante nell'episodio bianconatale della serie Black Mirror. Parla quattro lingue, italiano, spagnolo, inglese e francese. Anche lei da giovanissima si è dedicata alla recita, facendosi accettare anche nella famosa Accademia di Recitazione Drammatica a Londra, abbreviata in rada. Thomas Einstein Thomas Martin Einstein è il pronipote di Albert Einstein. Come saprete Albert Einstein è considerato uno dei più grandi geni mai visti. Conosciuto al grande pubblico anche per la formula dell'equivalenza massa-energia E uguale mc alla seconda, considerata l'equazione più famosa del mondo. Nel 1921 ricevette il premio Nobel per la fisica. Sfortunatamente Thomas Martin Einstein non poteva assolutamente essere a livello del suo antenato, ma comunque ha una carriera rispettata nel campo dell'anestesiologia e della fisica nel Lucla Medical Center a Santa Monica. Non voleva assolutamente essere a livello di Albert Einstein, ma semplicemente se stesso e fare ciò che voleva per spiccare, ed è questo il modo in cui tutti dovrebbero vivere alla fine. Chris Evans Cosa pensate guardando questa donna? Non è la cosa più vicina ad Harley Quinn mai vista, la folle ragazza del Joker in Suicide Squad. Beh, ovviamente non è una parente di Harley essendo quest'ultima il personaggio di un fumetto. Chris è diventata famosa nel mondo per essere invece la pronipote di Joseph Stalin, che fu un dittatore dell'Unione Sovietica. A partire dal 1924. Questa quarantenne sta parlando apertamente del suo parente soltanto in questi anni, perché prima era ancora considerato un pericolo essere imparentati con Stalin, vivendo specialmente negli Stati Uniti. Infatti sua nonna aveva cercato rifugio in questo paese per sfuggire alle grinfie del dittatore. Le sono stati donati una nuova identità e una nuova vita. L'unico problemino è che la donna si comporta in modo fin troppo stravagante e la rete più di una volta l'ha considerata davvero troppo simile a Stalin. Ma la ragazza ha affermato più volte che rifiuta categoricamente di essere comparata a un uomo che non ha mai visto. E di qui non è per niente fiera. Alexander Adolf Stewart Houston Se c'è un uomo che è considerato ancora oggi tra i peggiori del mondo è Adolf Hitler. Anche solo pronunciare il nome a molti fa salire la rabbia per le atrocità commesse. Immaginate quindi di essere un parente anche se alla lontana di quest'uomo. Alexander Adolf Stewart Houston ha cambiato decine di abitazioni e case da quando ha superato l'età legale per viaggiare da solo. La sua vita è stata un turbinio di situazioni disperate per via del cognome che non era Houston ma Hitler. Oggi ha 68 anni ed è il pronipote del dittatore. Pensate che per decenni ha cercato di sfuggire all'occhiata dei giornalisti ma sfortunatamente non puoi scappare per sempre. Questa segretezza gli è costato anche il primo matrimonio. Era sposato con una donna ebrea che dopo aver scoperto alcune cose da dei giornalisti australiani quando viveva lì per nascondersi ha deciso di mollarlo subito. Il pover uomo non ha nulla a che fare con il suo antenato eppure alle persone non importa di questo piccolo particolare. Stephanie Rose Bon Jovi Non sempre tutti i figli o i nipoti vengono su come si deve. Nonostante si impegnino al massimo alcuni finiscono in un brutto tunnel fatto di perdizione. Questo riguarda Stephanie Rose Bon Jovi che attualmente è la figlia di John Francis Bon Jovi che è un famosissimo cantante di 57 anni di un noto gruppo rock. Lei non è riconosciuta per chissà quali talenti o capacità ma è finita nei giornali per i motivi sbagliati. Nel novembre del 2012 è stata ritrovata a terra nel dormitorio del suo college a causa di un overdose di sostanze. Fortunatamente non è finita in prigione ma ha ricevuto l'assistenza per disintossicarsi. Ad oggi è pulita e cerca di stare lontana da certe cose anche per non far sfigurare suo padre. Con questo concludiamo. Insomma avere un cognome importante è un vero fardello a volte. Altre volte invece è alquanto difficile pronunciarlo perché le persone si aspettano che tu soddisfi certi requisiti e mantenga alto quel cognome. Noi ci lasciamo per oggi se il video vi è piaciuto lasciate un bel mi piace, commentate se non siete ancora iscritti allora iscrivetevi e al prossimo video. Ciao gente!